Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di intrattenimento di Blog Sicilia, ci occupiamo di politica, società, cultura, sport, però in questi giorni ovviamente le nostre attenzioni sono dedicate soprattutto al mondo della politica, il contatore sta quasi per dire stop, ormai fra pochi giorni si vota, il 25 settembre il grande appuntamento alle urne, si rinnova il Parlamento regionale siciliano, l'Assemblea regionale siciliana per essere precisi, voteremo anche per scegliere il prossimo Presidente della regione siciliana e contestualmente ci sono anche le elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato, insomma un bel tourbillon di appuntamenti elettorali, speriamo che i cittadini vadano a votare, noi stiamo seguendo questa campagna elettorale cercando di dare voce a tutti i personaggi che concorrono per un posto sia a Palazzo Normanni sia a Palazzo Chigi, Camera e Senato, insomma. Oggi abbiamo con noi un giovane ospite, però già una bella carriera politica sulle spalle, non alle spalle, no? Grazie, buongiorno. Benvenuto a Francesco Bertolino. Francesco, lei si candida per quello che viene chiamato il terzo polo, candidato all'Assemblea regionale siciliana, lista armò presidente, quindi il mix tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Perché questa scelta politica? Lei viene dal mondo del centro-sinistra, non è un cambio di casacca vero e proprio, ma è una declinazione, una nuance nuova di declinazione politica, no? È un percorso coerente dalla nascita di Italia Viva che ho seguito a Palermo, traghettando dal Partito Democratico alla Costituzione del nuovo soggetto politico di Italia Viva, quando il Partito Democratico ha iniziato una strategia di alleanza a livello nazionale col Movimento 5 Stelle. Lì c'è stata una frattura insanabile che riteniamo e rivendichiamo totalmente inadeguata, anche visti i risultati che si sono avuti nelle ultime settimane, con la rottura di questa alleanza che è stata coltivata per arrivare a queste elezioni, di fatto poi corrono separati. Italia Viva nasce come nuovo soggetto che possa coprire quel campo moderato di riformismo al centro, un grande campo che Matteo Renzi già 10 mesi fa aveva individuato come spazio, come casa per tutti quelli che non vogliono una politica urlata alla Beppe Grillo, contro i populismi e contro ovviamente una destra sempre più schiacciata verso il sovranismo della Meloni e di Fratelli d'Italia. Ecco su questo, diciamo, Matteo Renzi proprio aveva indicato questo percorso già 10 mesi fa e finalmente anche con Carlo Calenda si è trovata un'alleanza, una sinergia che vede insieme questi due leader nel cosiddetto terzo polo. E per la Sicilia cosa cambia? La declinazione siciliana di questo terzo polo vede Gaetano Armau candidato alla presidenza della regione, l'attuale vicepresidente del governo musumeci e assessore al bilancio. Quali sono le ragioni che l'hanno portato a sostenere Gaetano Armau? È una scelta che indica esattamente il percorso che il terzo polo si propone di fare sia a livello nazionale che a livello regionale, cioè quello di provare ad andare oltre le ideologie contro una politica urlata l'un contro l'altro, ma provare in una situazione emergenziale, così come avviene a livello nazionale per tutto quello che sta succedendo a livello internazionale, sia come regione Sicilia, di poter individuare dei soggetti moderati che abbiano una grande passione verso la politica ma anche una competenza da mettere a servizio della collettività. Gaetano Armau certamente è sempre stato in un range politico di un'area moderata, è un famosissimo professionista, è un professore di diritto amministrativo che da anni si occupa di politica con prestigiosi incarici e siamo sicuri che possa rappresentare quell'unione tra passione politica e competenza che può essere utile a un progetto come quello del terzo polo. Questo è il motivo per cui l'abbiamo scelto e che crediamo nella sua condivisione di questo progetto del terzo polo come fase costituente, perché ovviamente la regione Sicilia anche qui in maniera irresponsabile è stato fatto cadere un governo in piena estate e quindi ci stiamo attrezzando in una campagna elettorale davvero improvvisata. Ma ormai è finita la campagna elettorale. Esattamente, campagna elettorale di 20 giorni con l'estate di mezzo. Lei è molto giovane, lei viene dal mondo delle professioni. Grazie, è un dato oggettivo, non è che... Un ragazzino, insomma, con tanta strada politica da percorrere, perché è un augurio che le facciamo. Grazie. Ma insomma, il sentire della gente rispetto a queste candidature, a questa duplice corsa per il Parlamento nazionale, non è che il mondo della politica si sta staccando un po' troppo alla società reale e c'è anche sullo sfondo, sono tre domande in una in realtà, il grande rischio dell'assenzionismo. Il grande rischio purtroppo l'abbiamo anche toccato con mano alle ultime amministrative a Palermo, dove una quota minoritaria della città ha scelto il sindaco. La galla è stato votato dal 40% dei cittadini, che è un dato veramente preoccupante e un pessimo segnale. Tra l'altro è un dato che viene dopo le amministrative di Torino e Roma, quindi non è un dato locale, ma è un dato nazionale. Ed è, diciamo, secondo me, la testimonianza della lontananza tra la posizione. Non vota più perché non capisce questi, io mi candido lì, devo fare la mostra così. Terzo Polo ha fatto una scelta su questo per provare a ricucire questo strappo, che è quello di mettere delle candidature credibili con i territori. Una differenza che noi rivendichiamo rispetto agli altri è la selezione dei candidati alle nazionali. La legge prevede quella nazionale, a differenza delle regionali, dove è ancora possibile esprimere delle preferenze. Si faccia anche un po' di autopromozione, immagino che questa selezione sia stata fatta anche per selezionare classe dirigente del Parlamento regionale, no? Assolutamente, abbiamo messo... Ma è da dare pure io in beccare la battuta per farsi autopromozione, i giornalisti non dovrebbero farlo. Ma intanto parliamo del progetto politico, perché è il motivo anche fondante della mia candidatura. Io mi candido mettendoci la faccia perché credo fortemente in questo gruppo e in questo progetto politico costituendo del Terzo Polo. Ed è su questo che desidero chiedere, è un consenso anche su di me accaduta. Ma facciamo un passo indietro rispetto alla scelta che noi abbiamo fatto anche sulle candidature nazionali. La legge nazionale, dicevo, prevede delle candidature blindate, cioè che sono le segreterie di partito a scegliere. Ecco, mentre altri partiti nei collegi siciliani hanno fatto una scelta ben chiara di scippare dei posti che poi saranno garantiti a Roma. Per esempio il Partito Democratico candida la Furlan, autorevolissima personalità politica, storica segretaria di un sindacato, ma che credo in Sicilia sia venuta per motivi turistici negli anni. Ma comunque non ha un radicamento e un contatto con il territorio, non conosce le reali istanze, i reali bisogni della gente. Beh, però non è la... cioè io capisco, lei è contro il cosiddetto effetto paracadute per... Oppure abbiamo Forza Italia che candida la compagna di Berlusconi. Ecco, un siciliano per quale motivo dovrebbe votare? Qual è l'attaccamento rispetto esclusivamente per un progetto politico? Mi scappi la battuta. Di solito, al di là del radicamento dei territori, qualcuno potrebbe dire, vabbè, li scelgono per le competenze, riferendosi proprio alla compagna di Berlusconi. Sul primo caso ovviamente le competenze ci sono, sul secondo sono tutte da dimostrare, non dico che non ci sia. Non sappiamo di quale natura e genere, ma ovviamente ci saranno delle competenze. Che ho provato con mano all'interno del mio gruppo, che è quello di Italia Viva, è come al di là delle simpatie, delle antipatie, delle aspettative di ciascuno, noi candidiamo come capolista alla Camera l'attuale senatore Faraone e al Senato la senatrice Bellanova. Sono stato testimone di come ministro dall'agricoltura, senza campagne elettorali, Teresa Bellanova è venuta più volte nella nostra regione, ha più volte ascoltato, è una persona che ama la politica, sappiamo benissimo l'estrazione da dove viene, che ha ascoltato i problemi delle aziende siciliane, palermitane, della provincia di Palermo, siamo stati in aziende prestigiosi che trasformano gli agrumi, siamo stati al museo e alla produzione delle acciugherie aspara, siamo stati dai pescatori di Porticello, tutto questo l'abbiamo fatto negli anni passati certamente di creare una comunità, ma il fatto che abbia fatto un tour elettorale anche da ministro in Sicilia fa della Bellanova, non è un tour elettorale, io sono convinto che le campagne elettorali un buon politico non smette mai di farle, perché la campagna elettorale è qualcosa di bello e di straordinario, significa mettere a conoscenza una propria idea, una propria passione della politica a servizio del territorio, ecco se questo si intende campagna elettorale, Teresa Bellanova, così come penso io, è sempre in campagna elettorale. Altro esempio concreto, il senatore Faramo conosce le istanze della nostra città, oggi stoppa la sua campagna elettorale, si trova a Roma, vi sarà un emendamento a firma sua che consentirà ai palermitani di non aumentare l'IRPEF al comune di Palermo, ecco è un esempio concreto di come si possa conoscendo il territorio portare delle istanze a Roma che hanno una ricaduta sul territorio. Quindi avere l'autorevolezza per poter dialogare col governo e dire guardate questa istanza del territorio è credibile, non facciamo fallire Palermo, non facciamo fallire l'IRPEF. Assolutamente, avere l'autorevolezza ma soprattutto avere un contatto con il territorio, non mi permetteremo di dire che gli altri candidati non sono autorevoli, dico che non hanno un contatto col territorio, cosa che invece… Ma il contatto col territorio è una cosa necessaria, non è che bastino… cioè io sono convinto che alla fine potrebbero bastare le competenze, io ricordo a tutti che tanti anni fa nel 99 l'attuale Presidente della Repubblica, il nostro Palermo Sergio Mattarella, venne eletto in Trentino e nessuno come dire ne fece pietra dello scandalo. Perché oggi si pensa… cioè non è che è diventato un mantra anche un po' comodo, è un po' retorico questa storia dell'appartenenza al territorio? Io sono convinto che il livello di astensionismo è soprattutto legato a questa mancanza di legame con il candidato. Votare un partito con dei candidati che non si conoscono… io che seguo la politica ho vissuto con disagio il fatto di non conoscere i deputati eletti, al di là di colori politici, i deputati eletti della nostra terra, cioè oggi può capitare qualcosa che vent'anni fa era impensabile, di entrare in un bar, avere tre deputati che prendono il caffè e non saperli riconoscere. Ecco la riconoscibilità, la spendibilità di un volto, di un viso, di una passione, di una storia per me è fondamentale per chi fa politica e credo che questo abbia creato questo disagio che prevede da un lato un momento di crisi con tantissimi problemi dei cittadini che non trovano risposte, dall'altro l'impossibilità di avere un riconoscimento con un volto politico, tant'è che questo si vede anche con l'asprimento che ogni cittadino ha verso i propri sindaci, perché? Se tutto va bene è merito del sindaco, se tutto va male è colpa del sindaco, no? Perché? Perché il sindaco rimane… Non è che abbiamo sbagliato a personalizzare un po' troppo la politica? Abbiamo sbagliato a eliminare le preferenze nelle varie candidature indicando praticamente semplicemente i sindaci o comunque chi ha ancora la possibilità di essere eletto mettendoci la faccia come il punto di riferimento. Poi ciascuno di noi ha delle grosse responsabilità, che è quello del cittadino che dovrebbe essere partecipe alle sorti della propria comunità, essere responsabile come elettore facendo campagna elettorale per il partito a cui crede e soprattutto essere anche testimone di una partecipazione attiva. La responsabilità vengono ovviamente da tutti, però il fatto di non poter scegliere un candidato e non essere riconoscibile io penso che sia un grave disagio che porta i cittadini a non andare a votare. Io direi che fino a questo momento abbiamo disegnato un po' la cornice, come dire, della sua candidatura. Lei ha, come direbbe un esperto di marketing, la reason why della sua candidatura, no? Io direi cerchiamo di dipingere un po' con l'affresco di Francesco Bertolino, chi è, cosa fa e perché sceglie di mettere a disposizione le sue competenze, la sua esperienza per i siciliani, per il Parlamento siciliano. Faccio due flash, il primo da giovane scout mi è sempre stato insegnato che il nostro fondatore, che era Baden Powell, ci diceva che quando si andava in un campo estivo e si stava dieci giorni in un bosco, l'obiettivo era lasciare il posto dove si andava un po' meglio di dove lo si è trovato. E questo era il tormentone che ci veniva fatto dei nostri capiscali. Esattamente come fanno i palermitani con la scritta di Montenegro. Esattamente, quindi ognuno per come può, anche con le proprie competenze e chi ha di più, poter far di più, anche togliere un fazzoletto di carta che lo si è trovato, si lascia il bosco più pulito. Partendo da questo piccolo esempio, diciamo che è sempre maturata in testa, che qualcuno deve sempre impegnarsi a migliorare, anche con un piccolo contributo. Il secondo è stato la periodo magico straordinario di quella definita primavera siciliana, che mi ha consentito di conoscere una persona che per me è stato un maestro di vita, che è il giudice Caponnetto. Il giudice Caponnetto ho avuto la possibilità poi di frequentare nei miei anni di formazione professionale, perché sono un restauratore, sono stato tre anni a Firenze. Veniva da quell'esperienza di Palermo, in cui poi ho iniziato a girare un po' l'Italia nelle scuole, parlando di legalità e delle grandi testimonianze, come quella di Falcone e Borsellino. Ecco lui nelle chiacchierate mi diceva che non è vero che la politica è una cosa sporca, è vero che tante persone poco pulite facciano politica e allora se vogliamo che qualcosa cambi è importante che le persone per bene si occupino di politica e quindi una responsabilità verso chi ha una visione pulita della politica di mettersi a servizio. E fu lui a incentivarmi, a candidarmi per la prima volta nel 2001 alla circoscrizione. Fui eletto all'ottava circoscrizione a 23 anni. Con che partito? Stiamo parlando di un mondo fa, nessuno le riproverrà a cambiare una vista civica, fondamentalmente il partito trainante erano i DS da dove provengono. Da allora i DS. Poi fondammo il Partito Democratico, fui il primo segretario del primo circo del Partito Democratico in via Grigento. Tra l'altro, all'inaugurazione, infatti l'ho detto, l'avevo stoppata. Fui il primo segretario del circo del Partito Democratico a Palermo che era via Grigento, in via Grigento e c'era anche Pier Santi Mattarella quel giorno. No, è possibile. Sì, sì, sì. Pier Santi Mattarella. Sergio Mattarella, Sergio Mattarella fu dedicato a Pier Santi Mattarella quella giornata. C'è il circo dedicato a Pier Santi Mattarella. Anziano sì, però fu tutta quella stagione guidata da Luca Orlando, poi all'interno, prima nella rete. È stato al Comune di Palermo. Io sono stato dieci anni al Comune di Palermo con Luca Orlando. Forse la stagione più complicata, nonostante negli ultimi anni Palermo abbia avuto un rafforzamento della sua identità culturale all'estero con la manifesto 2019, è una cosa che ancora oggi rimbomba in tutto il mondo. Cioè lei in Commissione Cultura come ha vissuto questa metamorso di Palermo? È stata un'esperienza straordinaria, nonché poi molto deludente rispetto all'Inca, perché non c'è stata la capacità di mettere in sicurezza quanto di buono fatto in questa esperienza. Però qualcosa è rimasto. Ci sono investimenti, Palazzo Butera. Certamente. Qualche mecenate è arrivato. È arrivato qualche mecenate e ci sono dei punti di non ritorno, come il percorso UNESCO, come aver compreso che scommettere sulla cultura crea economia, che è un po' il mio cavallo di battaglia e anche il motivo rispondendo alla sua domanda di cosa farò una volta eletto, se dovessi essere eletto e perché mi sto candidando. Sono stato testimone di come scommettere sulla cultura, sugli eventi culturali, sul nostro straordinario patrimonio, può essere un volano economico, non soltanto raccontato, l'abbiamo toccato con mano. Ero Presidente della Commissione Bilancio e successivamente Presidente della Commissione Cultura quando abbiamo introdotto la tassa di soggiorno. Oggi la tassa di soggiorno, che è una tassa che non pesa ai cittadini valermicani, perché pagata solamente dai turisti, consente un piccolo tesoretto di quasi 4 milioni in periodi pre-Covid. Questi soldi sono per legge tutti destinati a decolo urbano e a incentivare il turismo. Tutto questo ha creato un'economia tra diretto e indotto di B&B, di affittacamere, di ristorazione, di busso turistici che girano, di guide turistiche, di tantissimi posti di lavoro di ragazzi in queste strutture. Ecco, su questo io penso che su scala regionale siamo veramente ancora agli albori. Vorrei portare questa piccola esperienza che ho avuto al Comune di Palermo, sia da amministratore logata, sono stato 10 anni in Consiglio Comunale, quindi conosco un po' come funziona una macchina amministrativa, sia mettendo a disposizione le mie competenze in ambito culturale, essendo un restauratore, per far sì che la regione Sicilia si parli di programmazioni. Argumentazioni fantastiche, è chiarissimo quello che ci ha detto, si vede che lo dice proprio non è il mantra, lo racconta con quella velocità e quella passione che è la dedica che lei vuole offrire a questa città e a questa regione, però lei viene anche da una professione, fa il restauratore, il restauratore, ecco esattamente, ci raccontava dell'episodio dell'incontro con il giudice Caponnetto. Cerchiamo di capire un pochettino dal punto di vista dell'imprenditore i tempi che stiamo vivendo. Lei comunque, una volta eletto all'assemblea regionale siciliana, noi le auguriamo un in bocca al lupo e speriamo comunque di vedere, noi in caso ci vediamo qui il 26 per commentare quello che è successo, il 26 anche il 27 perché poi lo spoglio delle regionali parte del genere, esattamente. Quindi magari per scaramanzia vediamoci, sentiamoci verso il 26 sera, no? I problemi degli imprenditori, cioè che strumenti avrà lei in mano perché è vero, tutto quello che dice lei è vero, la cultura deve essere il volano insieme all'agroalimentare, l'eccellenza del nostro territorio per far ripartire questa regione, ma oggi stiamo affrontando una crisi epocale, probabilmente la più dura dal secondo dopoguerra, molti rischiano di non farcela, cioè lei da imprenditore la vive, come dire, con quali difficoltà, con quali prospettive e con quali speranze? Io penso che la politica debba attenzionare e favorire l'imprenditoria sana di questa regione, che, ahimè, si lamenta tanto, non è una imprenditoria o comunque di presenza grande industriale, ma di piccoli artigiani. Ci sono tantissime piccole realtà che possono rappresentare i veri centri per l'impiego. Mi spiego. Io ho una partita IVA, un collaboratore messo in regola, ovviamente, a me costa sui 1.200-1.300 netti in busta paga, con un costo di almeno il doppio, per me che sono il datore di lavoro. Fa rabbia vedere come gente prende 6, 7, 800 Euro di reddito di cittadinanza, nell'attesa che qualcuno lo chiami, aspettando la chiamata di un navigator di un centro per l'impiego. Ecco, se la politica comprendesse la concretezza dei problemi, dovrebbe venire da me. Io veramente le avevo chiesto la chiesa energetica, però questo tema del reddito di cittadinanza è fondamentale. Poi c'è il rischio che la campagna rispondevo al tema del piccolo imprenditore oggi. Il piccolo imprenditore oggi, se potesse avere abbattuto il posto del lavoro. Il suo è un grido d'accusa contro il reddito di cittadinanza. Quello assolutamente sì, perché il reddito di cittadinanza non ha nulla a che fare con la lotta alla povertà. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che viene introdotto per creare del lavoro ed ha fallito. Il tema del sociale era già stato inserito dal governo Renzi con il reddito di inclusione sociale, che era la carta REI, che funzionava benissimo, andava potenziato, migliorato per carità, ma è quel reddito che garantisce a chi non ce la fa, a chi non può essere occupato, di avere un reddito minimo che possa dare dignità a quella persona. Il reddito di cittadinanza viene introdotto per creare nuovi posti di lavoro e ha fallito, è pieno assistenzialismo che garantisce sia a chi ha realmente bisogno, ma sia a chi potrebbe lavorare e dovevano offrire un lavoro che non gli è stato offerto. Allora su questo il piccolo imprenditore, in questo momento di crisi energetica, di aumento delle spese, nota come ci sia una disparità tra chi prende il reddito, per equazione, esattamente, e chi fa mille fatiche con i costi alle stelle e un costo del lavoro che potrebbe garantire un nuovo stipendio. Mi spiego, se a me piccolo imprenditore mi si dice non paghi i contributi sul tuo dipendente, non ti do i soldi, ma hai l'obbligo di assumere per la cifra che risparmi un altro laboratorio, io avrei raddoppiato la forza del lavoro e creato un posto di lavoro. È una cosa semplicissima, oggi gli imprenditori chiedono questo, così come dalla regione Sicilia… Perché non si fa questo? Perché non si fa? Perché abbiamo avuto al governo chi prima era contrario come il Partito Democratico che ha fatto istruzionismo sul tema del reddito di cittadinanza e poi per un'alleanza che è andata a sfumare invece si ritiene favorevole. Gli unici che sono stati realmente sempre coerenti contro il reddito di cittadinanza sono stati Calenda e Renzi e questo se avremo la forza e i numeri per poterlo fare lo rappresenteremo, che non è una lotta contro la povertà, è una lotta contro lo sperpo di denaro pubblico per creare lavoro che non si crea. Non può durare all'infinito la misura del reddito di cittadinanza? Non può durare all'infinito perché crea… miliardi su miliardi. Crea una dipendenza, un assistenzialismo che non è gestibile perché non crea sviluppo. C'è stato un bellissimo intervento della nostra consigliera Noia, esponente di Italia Viva, che con molta forza diceva che il terzo settore ha bisogno di sviluppo, creare economia, creare sviluppo aiuta il terzo settore. Andare contro l'imprenditoria non significa avvantaggiare i poveri. Favorire l'impresa, creare lavoro, significa avvicinarsi al disabile, a chi sta indietro, a chi non ce la fa a fine mese. Perché creare economia significa creare sviluppo e quindi essere e rafforzare il terzo settore. Perfetto, il tempo a nostra disposizione si è concluso. Dottor Bertolino, in bocca al lupo per tutto. Francesco Bertolino. Grazie per la disponibilità. Buon voto e soprattutto convinciamo tutti, al di là di votare Bertolino, di andare a votare. Questo è qualcosa di fondamentale, un appello al voto, non è accettabile che i nostri rappresentanti vengano scelti da una minoranza degli elettori. E quindi sentiamoci un po' tutti in campagna elettorale. Non accetteremo mai la maggioranza silenziosa. Non ci serve la maggioranza silenziosa. Grazie ancora, dottor Bertolino, un caro saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Alla prossima puntata di Talks Sicilia. Alla prossima puntata di Talks Sicilia. Alla prossima puntata di Talks Sicilia.